...della mia generation, la tua seconda pennella è 255, mentre attraverso appena in atti, quindi il 2.51, ripeto che in questa masce di ricondizione non avremo le perdita, e ora su Alfa Romeo 33, di classe 1.6, Domenico Pilardi, della Cosenza Corse. ...della Cosenza 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 Cosenza, ...della Cosenza Cosenza Cosenza, ...della Cosenza Cosenza Cosenza, Dopo Calarco è la volta di Domenico Pilardi, con la sua Alfa Romeo 33 siamo passati alla classe 1.6, pilota del Cosenza Cisenza Cassenza. Questa ora è il turno nuovamente di Domenico Pilarni, ha percorso poche centinelli metri prima di venire fermato dalla bandiera rossa e ora proverà l'attacco. La bandiera rossa e ora proverà la bandiera rossa e ora proverà la bandiera rossa e ora proverà. La bandiera rossa e ora proverà la bandiera rossa e ora proverà la bandiera rossa e ora proverà. La bandiera rossa e ora proverà la bandiera rossa e ora proverà la bandiera rossa e ora proverà. La bandiera rossa e ora proverà la bandiera rossa e ora proverà. Antonio Calarco, allora ritornato alle gare dopo un anno e più? Più, quasi due anni. L'adrenalina ti ha fatto commettere un piccolo errore? Sì, diciamo l'adrenalina anche qualche errore tecnico c'è stato, però ci siamo recuperati. Hai fatto tutte e tre le mance, tutte bellissime? Oddio, oddio, però sapevamo quali erano comunque i problemi che avevamo prima di incominciare la gara. Però per quello che sapevamo siamo andati bene, siamo contenti. Bene, ok. Quindi sai già dove mettere le mani, vuoi ringraziare qualcuno, vuoi salutare qualcuno? Io ringrazio prima di tutto Mauro Paolillo che è il mio preparatore, ha tirato fuori un motore al top. Ringrazio Arcangelo Madaffri che mi sostiene sempre. Ringrazio, ringrazio, scusate, la carrozzeria, sì, la bottega del colore, il colorificio è il mio sponsor ufficiale, mi permette di correre più di qualsiasi altra cosa. E niente, poi ringrazio tutti quelli che ti conoscono. Tutti quelli che mi conoscono comunque, sì, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Francesco Crucitti per il sostegno tecnico in gara. Oh, K, grazie Antonio. Grazie. Terzo classificato Calarco Antonio. Secondo classificato Tlisco Luigi. Primo classificato Mancauso Alfredo. Grazie a tutti.